Prima di dirvi delle cose al riguardo ci sono altre cose che devo mettere in chiaro Io non sono un esperto di Call of Duty Questo è il primo Call of Duty che prendo in tutta la mia vita Non ne ho mai provati né in multiplayer né in zombie Quindi non conosco tutte le meccaniche di gioco Vi dico soltanto quello che so e darò un parere personale soprattutto neutrale Siccome ho sempre giocato Battlefield in multiplayer in tutta la mia vita Ho sentito molte cose riguardo questo titolo Ad esempio che era simile ai precedenti stili tipo Black Ops 2 Ma ho mischiato comunque nuovi stili tipo Advanced Hard Warfare Altri pareri dicono che è il peggiore che hanno mai fatto Ma io da ignorante della serie che sono Li ho semplicemente ignorati e ho provato il titolo con un pensiero assolutamente lontano da quello che potesse essere il gioco E verendo da Battlefield Dove si sa Battlefield il code si odia una vicenda Anche se motivi sconosciuti però vabbè Ma questo accade in tutte le vicende della vita quotidiana Quindi ho tralasciato Avevo bisogno di testare questo titolo e vedere se questo genere a me nuovo mi sarebbe piaciuto È uno stile totalmente diverso da quello che uso in Battlefield Certo è uno sparatutto in prima persona come nell'altro gioco Ma non sono assolutamente paragonabili Come alcuni di voi sanno io sono infante Anche su Battlefield nell'immensità delle mappe io gioco infanteria Quindi già che questo gioco sia un gioco solo infanteria mi piace Ma oltre questo iniziamo a parlare del gioco in sé e cosa esso offre Lasciando da parte un attimo il comparto multigiocatore Passiamo a quello che adesso non viene quasi più calcolato in un gioco Il single player Io non ho ancora messo mano sulla campagna del gioco La farò sicuramente Ovviamente vi può dare un'introduzione alle meccaniche del gioco Quindi non so dirvi molto su di essa siccome non l'ho giocato Ma posso dirvi che è comunque apprezzato il fatto che ci sia Siccome non è da tutte le case produttrici sfornare titoli con campagna inclusa Vedi Rainbow Six Battlefront Oltre alla campagna normale sappiamo che la serie Black Ops è famosa per la modalità zombie Che oltre alla coop ci permette di rigiocare la campagna Con una storia completamente diversa Anzi no, non so se è completamente diversa E come nemici le orde di non morti Quindi secondo me è una figata assurda La devo provare assolutamente Quindi avrete ben due campagne incluse E ripeto non è da tutti Oltre al single player abbiamo la amatissima modalità zombie Che permette di giocare o in schermo condiviso oppure online fino a 4 amici Anche se questo non so dirvi molto Siccome l'ho provata solo una volta ma ho visto solo qualche dinamica So solo che riprende uno scenario retro adattato ai stili moderni e con i zombie Quello su cui posso dirvi qualcosa è il multiplayer Una volta entrati nell'online di Black Ops Potete buttarvi subito nella mischia Ma prima dovete scegliere uno specialista Uno tra una serie di personaggi utilizzabili nel gioco Non cambia molto tra di loro L'unica cosa che cambia sta nell'abilità che scegliete In base alle vostre licenze e capacità Dovete scegliere diciamo quella più consona a voi Non preoccupatevi perché potete cambiarli comunque in futuro Una volta scelto lo specialista ed entrati in una partita Dovrete scegliere la classe Potete scegliere o le 4-5 classi già preassegnate con le armi Già con gli accessori se non sbaglio Oppure potete personalizzarvi da soli fino a 4 classi Personalmente non ho toccato minimamente quelle già fatte Ma mi sono subito buttato nella mischia con la mia classe personalizzata La mia prima impressione dopo la prima partita Ovviamente deathmatch da nabbo qual sono E' stata no Io sto gioco lo vendo Mi fa schifo E in effetti proprio non era il mio genere E morivo davvero in tutti i modi Ma quindi cosa mi ha fatto cambiare idea? Semplicemente come in ogni gioco Nessuno nasce imparato La pratica rende perfetti E facendo pratica e morendo tante tante volte Ho capito il potenziale di questo gioco E ragazzi fidatevi spacca E' frenetico Tattico E allo stesso tempo vi diverte Che è la cosa più importante Mappe fatte con logica Corridoi diciamo a zig zag Che offre comunque dei ripari Che permette sia di difendere Che di attaccare sopprese i nemici Certo ci sono delle mappe veramente fatte male male Ma come in tutti i giochi ci si fa l'abitudine E per quanto riguarda le armi Ci sono sempre quelle OP A differenza delle altre Ma come in qualsiasi FPS Le sistemeranno prossimamente con le solite patch E sono davvero belle da usare alcune Davvero belle Che sono quelle più lente che fanno più danno O quelle più veloci che fanno meno danno Ma come in tutti i giochi diciamo Queste sono bilanciate Però alcune veramente sono sgrave Io al momento usarò soltanto qualche fucile d'assalto E qualche SMG E sono davvero belle da usare Ovviamente se volete utilizzarle al massimo Dovrete mettere gli accessori Che non ve li danno dall'inizio Ma dovrete sbloccarveli man mano Facendo le uccisioni Vi consiglio comunque di sbloccare tutti gli accessori E provarla a quello che vi torna meglio Ma di queste comunque parleremo man mano Nei prossimi video Per questo direi di aver detto abbastanza Se avete comunque intenzione di capire meglio Qualche dinamica del gioco Scrivetemi nei commenti Insomma fatemi sapere quello che pensate Sia pareri positivi che negativi L'importante è non puntare il dito Senza aver prima provato Ci sentiamo al prossimo video Bella Ciao